La giornata per le aggressioni al personale sanitario è una giornata importante. L'azienda Ustoscana Sud-Est è fortemente impegnata a adottare tutte le politiche per la prevenzione attiva e pressiva dei propri professionisti. È inimmaginabile che nei confronti di un operatore sanitario, medico, infermiere, osso, tecnico, si possa esercitare violenza fisico-verbale proprio nel momento in cui questo professionista sta garantendo la tutela della salute. Nell'azienda Ustoscana Sud-Est abbiamo avuto circa 450 aggressioni l'anno scorso tra fisiche e verbali. È un numero importante, anche una sola aggressione sarebbe un numero importante. Nei confronti di questi fenomeni abbiamo alzato il livello di guardia anche attraverso un'azione di accompagnamento dei professionisti nei passaggi, nelle relazioni conseguenti al fatto, sia in termini di supporto psicologico, sia in termini di supporto legale per poter vedere riconosciuto il diritto leso in ogni sede. Questo fenomeno non coinvolge solamente la sanità, ma anche coinvolge tutta la società. Si può pensare anche ai fenomeni di violenza nelle scuole. Allora, tre sono i punti fondamentali che l'azienda ASL Toscana Sud-Est vuole puntualizzare. Sono monitorare il fenomeno, mettere in essere tutte le attenzioni possibili e soprattutto supportare e fare prevenzione nei confronti del nostro personale. Se noi facciamo un confronto dai dati del 2022 rispetto al 2023, vediamo che c'è stato un incremento di casistica di questi fenomeni perché siamo passati da 228 casi a 452 casi. Potremmo dire quasi un raddoppio con un'incidenza di 235 casi ad Arezzo, 133 a Grosseto e 84 a Siena. Quello che però volevo dire è che l'azienda ha messo maggiore attenzione al fenomeno quindi in senso assoluto i casi si sono fatti emergere anche quelli che normalmente non sarebbero emersi proprio perché il direttore generale, tutta la direzione, il direttore sanitario e anche da parte mia abbiamo avuto questa sensibilità di fare una nuova procedura quindi invitare anche tutti gli operatori e professionisti a denunciare questi casi questi casi che possono succedere e normalmente c'è un'incidenza sul pronto soccorso nel settore della salute mentale, nel settore della centrale operativa Centro 18 in tutta la medicina di chirurgia e di accettazione di urgenza ma che possono essere sia anche nei SERD ma anche nei CUP quindi maggiore sensibilità verso tutto questo fenomeno e proprio perché invitiamo le persone a denunciare ma nel momento che poi succede il fatto c'è tutta un'attività di segnalazione anche di questi reati e anche di prevenzione perché noi comunque diamo anche un supporto psicologico a tutti gli operatori quindi vogliamo anche andare soprattutto a supportarli perché comunque fenomeni di aggressione sia verbale che fisica credo che non facciano mai di per sé piacere quindi in questo contesto tutta l'attività dell'azienda è tesa a proteggere i lavoratori il più possibile perché sono il nostro valore aggiunto e soprattutto chi fa questi fenomeni di violenza commette un reato anche verso tutte quelle persone che possono usufruire del servizio perché viene di fatto a interrompere un servizio pubblico essenziale quindi diciamo di sicuro l'azienda Toscana Sud-Est dice no alle violenze nei confronti degli operatori, massima sensibilità, massima attenzione e massimo supporto al nostro personale Allora noi abbiamo degli psicologi che possono essere chiamati nello specifico caso attivati appunto dal nostro personale e questo qui significa naturalmente rivivere il caso vedere quello che è successo e nel frattempo anche adottare tutte le possibili soluzioni di maggiore protezione se dobbiamo mettere maggiore videosorveglianza, maggiori telecamere nel caso del cup dei vetri di protezione è ovvio dove c'è un contatto diretto del medico, dell'infermiere, del professionista se c'è da fare una visita non possiamo utilizzare lì delle protezioni o nel caso anche del pronto soccorso quindi il supporto psicologico significa naturalmente dare, creare quel clima di supporto alla persona per vivere per quel momento e per superare quel momento www.pe1.s www.weMm spatial www.ki.pt www.ky.pt www. Chun